liberamente il podcast di psicologia con storie idee consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più a cura di matteo neroni ciao mente libera e buon inizio di settimana anche questa volta voglio ringraziarti per aver partecipato al video sondaggio che ho pubblicato che pubblico insieme a questo video ogni lunedì siete davvero tanti e a me fa davvero piacere poter scegliere insieme con voi l'argomento di approfondimento della psicologia o del settore del campo della crescita personale per iniziare insieme al meglio questa settimana come stai vedendo oggi approfondiremo insieme l'autostima il concetto di autostima e soprattutto capiremo come è possibile aumentarla ogni giorno perciò iniziamo subito innanzitutto c'è da dire che l'autostima nasce dal confronto che facciamo ogni giorno tra i risultati dell'esperienza che facciamo e l'ideale le aspettative che abbiamo su noi stessi tanto più è la distanza tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere e minore sarà la stima che proviamo molto spesso in psicologia quando si parla di autostima si sottolinea molto l'influenza che il nostro passato ha sul nostro presente ma se restiamo su questa posizione il rischio è secondo me di perdere di vista il potere enorme che hanno invece le nostre scelte le nostre decisioni sul futuro perché non solo ciò che siamo stati in passato determina il nostro presente ma anche ciò che vogliamo diventare nel futuro gli effetti che una buona o una bassa autostima hanno nella nostra vita li ritroverai all'interno dell'articolo che trovi qui sotto nei commenti ma prima di consegnarti i miei suggerimenti di questa settimana voglio ricordarti una cosa e cioè che molto spesso crediamo che la nostra autostima sia cristallizzata o è alta o è bassa invece no è molto più fluida e dinamica e può oscillare di giorno in giorno di ora in ora addirittura e questo può succedere perché essa diminuisce o aumenta in base ai feedback interni che ci diamo oppure ai feedback esterni che riceviamo dall'ambiente bene se sei pronto a lavorare su te stesso partiamo con i quattro suggerimenti pratici di questa settimana il primo passo in assoluto è assumerti la responsabilità della tua vita ricorda che più attribuisci la responsabilità dei tuoi mali presenti al passato più sarà difficile per te prendere per mano la responsabilità del tuo cambiamento e anche se leggerai libri andrai a frequentare dei corsi sull'autostima se non ti prenderai la responsabilità della tua vita ogni giorno mi dispiace non arriverai da nessuna parte suggerimento numero due fatti delle domande importanti se mi segui da diverso tempo sai perfettamente quanto sono affezionato al concetto di domanda come nutrimento della nostra consapevolezza e di quanto sono convinto che siano le domande che ti fai a influenzare ciò che sei perciò sarebbe buono oggi farsi qualche domanda in più ad esempio cosa voglio per me oggi che tipo di persona voglio essere in futuro cosa posso fare per essere una persona migliore di quella che sono oggi ti prego prendi sul serio queste domande mentre passiamo al terzo suggerimento il mio terzo consiglio dedicato alla concretezza se vivi tutto quello che ci stiamo dicendo solo nella tua testa e non vuoi e non sei disposto a fare nulla di concreto non vedrai mai aumentare la tua autostima e la fiducia in te stesso ad esempio una cosa che su di me funziona tantissimo è portare finalmente a termine un impegno un compito che sto rimandando da tempo ad esempio fare una telefonata scrivere ad un amico cucinare una cena gustosa e sana mettere in ordine le bollette andare a lavare la macchina insomma qualsiasi azione va bene purché preveda una tua decisione anche se si tratta di piccoli compiti vedrai alla fine sarai fiero di te stesso il mio quarto e ultimo consiglio è dedicato al modo con cui tante volte trattiamo noi stessi perciò se vuoi aumentare la tua autostima diventa amico di te stesso è uno dei pensieri più bloccanti che ci fanno perdere la fiducia in noi stessi è la paura del giudizio degli altri perciò la prossima volta che vuoi agire che vuoi esprimerti non curarti di loro ma guarda e passa bene menti liberi anche oggi siamo arrivati in fondo a questo video di approfondimento io ti ringrazio dal profondo del cuore per aver partecipato al video sondaggio della settimana fra poche ore pubblicherò il nuovo video sondaggio perciò non perdertelo resta sintonizzato su questo profilo nel frattempo io ti saluto ti do appuntamento alla prossima settimana ciao liberamente il podcast di psicologia con storie idee consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più a cura di matteo neroni ciao 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 ciao